Amici di InterfanTV.com, FCInternews.it, Buoriforti Nerazzurri, bentornati da Michele Borrelli alle video news di InterfanTV, alle rubriche, come sempre, alla vigilia, conferenza stampa di Spalletti, ma anche ipotesi di formazione. E io continuo a dire, ma lo continuerò a dire per molto tempo, perché è una piccola soddisfazione, ma quando si dice, anche oggi tanti tifosi sotto i commenti della conferenza, adesso c'è di moda questa storia di amici miei, perché Spalletti, quando la prende alla larga, se uno vuole entrare in empatia e collegarsi con quello che dice il mister, è bello sentire parlare di calcio. E che se si senta parlare di calcio, la prova è che quando venite poi a recuperare i video vecchi di giugno-luglio-agosto, questo benedetto 3-4-2-1, che oggi tutti ipotizzano per Bologna, noi lo facciamo vedere con gli stessi undici, non con altri. Periscriniar, centrosinistra, D'Ambrosio, centrodestra, De Vrij, centrale, davanti ad Andanovic, Salico, a destra, Asamoah, a sinistra, Vesino e Brozovic, centrocampisti, davanti, Naingolano e Perisic, svariano trequartisti dietro i cardi, così come è stato Politano e Perisic, perché Naingolano non era disponibile nell'ultima partita. Poi ci possono essere diversi ballottaggi, che se ne dica il sostituto di Asamoah, che comunque è stato convocato, e Dalbert. Dall'altra parte, Caramò ormai dovrebbe essere ufficializzato a breve il suo trasferimento in Francia, in prestito secco, dall'altra parte, Candreva può essere l'alternativa a Salico, così come Lautaro Martinez, Keita e lo stesso Politano possono essere più che valide alternative nei tre posti davanti. E come ha detto oggi Spalletti, sarà una stagione in cui bisognerà cambiare, fare turnover parecchie volte, perché ci sono queste partitelle o partitine, come dice qualcuno, col Barcellona andate e ritorno, col Tottenham sarà la prima, nel nuovo orario 18.55 il 18 di settembre. Quindi si comincia la Champions il 18 di settembre e martedì alle 18.55 e poi tutte le altre alle 21, prima le due trasferte di Eindhoven e di Barcellona, poi in casa il Barcellona. Tra l'altro incastrate anche con partite non proprio facilissime, per esempio quella di fine ottobre, il terzo turno, è proprio dopo il derby. Quindi derby, Barcellona e poi la Lazio fuori casa, così come il sesto turno arriva a metà dicembre di martedì, tra l'altro subito dopo Juve-Inter. E la Juve potrebbe già essere qualificata al sesto turno di Champions League, mentre l'Inter magari in casa con il PSV Eindhoven l'ultima partita, perché poi c'è Inter-Barcellona la quarta, Tottenham-Inter la quinta e Inter-PSV Eindhoven la sesta. Potrebbe essere decisiva per strappare, speriamo, magari il secondo posto, la qualificazione di ottava di finale. Quindi però al di là di tutto, torniamo a noi, torniamo a Bologna-Inter. Il Bologna, come il Torino, gioca 3-5-2 e quindi la variante di Spalletti, che non ha le idee confuse, non sa, prima fa un modro, poi fa no. Sono ormai, questo è il secondo anno, che fa il 4-2-3-1 e quando il 4-2-3-1 è stato assimilato, le conoscenze dei giocatori, tutto quello che abbiamo sempre, i codici, come li chiamava Mazzari e tutti gli altri, poi si è passati poco alla volta alla prima alternativa che è il 3-4-2-1, che è più difensivo del 4-2-3-1. Lo aveva fatto anche a Roma, tant'è vero che uno dei ballottaggi in questione, al di là di Asamoah da Albert o di Gagliardini-Vesino, che andrebbero a occupare la stessa posizione con Vesino e Asamoah, ovviamente in questo momento favoriti, è proprio quello che abbiamo visto durante la partita con il Torino. Cioè il cambio di modulo ci può essere con fuori Salico-D'Ambrosio, dentro Politano e passi subito al 4-2-3-1. Ma anche con gli stessi interpreti, D'Ambrosio-Scala a Samoa-Scala diventa una difesa a 4 e Vsalico-Nagolan e Perisic dietro i cardi e 4-2-3-1 con Vesino e Brozic durante la difesa. Poi c'è qualcuno che non so perché quest'estate è stato lontano, non ha seguito gli allenamenti, magari non ha seguito quello che abbiamo raccontato giorno per giorno, e poi dice no Spalletti chissà perché, vaga, una partita la fa così, un'altra la fa così, no, semplicemente affronti il Torino, affronti il Bologna che giocano a 3 e quindi il discorso di stare a 3 dietro viene molto più automatico, anche se come ha detto Spalletti alla fine di Inter-Torino, quando impostavi l'azione col Sassuolo, lo stesso, Politano si abbassava, D'Ambrosio si stringeva e quindi a 3 in una fase e a 4 in un'altra anche con il Sassuolo. Poi dice ma allora va bene, allora va tutto bene, hanno sperimentato perché l'Inter, no, certo, non è che non ci sono stati problemi, le partite sbagliate come quella con Sassuolo l'approccio, col Torino dopo il 2-1 e lì, poi l'analisi l'abbiamo fatta mille volte, dei problemi di test, eccetera, eccetera. Quindi caramò detto, dei ballottaggi detto, magari dite anche la vostra sul discorso, anche se in ballottaggi qui c'è poco da scegliere, ma diciamo Vecino-Gagliardini, propongo questi d'Albert Samoa, non ve lo chiedo neanche, però Vecino-Gagliardini magari vi propongo come ballottaggio e l'altro ballottaggio che vi propongo è Terzino-Versalico-D'Ambrosio e dall'altra parte Politano in alternativa a 1-2 per fare il 4-2-3-1. Però, ripeto, è più una domanda su qual è la vostra preferenza in generale, perché col Bologna dovrebbe partire, proprio perché il Bologna gioca 3-5-2, tra l'altro anche al Bologna c'è qualche piccolo dubbio di formazione, perché Falcinelli, l'ex, potrebbe essere affiancato da un altro ex destro, vediamo se parte comunque sempre con Santander in coppia d'attacco, poi c'è anche Poli a centrocampo, insomma, vecchie conoscenze in Baie che però non dovrebbe giocare dall'inizio, l'anno scorso fece il fallo su Eder. Approfitto anche per un paio di precisazioni, ma anche di scuse, purtroppo, perché allora una precisazione riguarda i prossimi appuntamenti, vi invito sempre a iscrivervi al canale, mi piace, le condivisioni, eccetera, eccetera. Domani c'è il post partita, come avete visto dallo scenario, siamo ancora, almeno io sono ancora a Milano, quindi però avevo detto che partirò nella sosta, la partenza è stata spostata per vari motivi a domenica, quindi dal 2 al 16 non sarà a Milano, ci sarà qualche video di aggiornamento, ma per tutte le notizie ovviamente avete fcinternews.it, sui nostri social magari un aggiornamento a settimana ci sarà, però un po' di stacco in queste settimane di sosta ne approfitterò per farlo. E invece, per quanto riguarda le scuse, perché ieri, durante i sorteggi, ci siamo persi nel discorso girone E, oltre al girone A, B o D che poteva capitare, tanti me lo scrivevano, è stata una situazione un po' comica, dopo andandola a rivedere post sorteggio, perché io avevo il computer per far vedere le grafiche a casa, il tablet per seguire il video senza audio dei sorteggi, il cellulare per i whatsapp, le telefonate, il dibattito ovviamente studio, e qualche messaggio anche da sms vari, dico sempre non mi scrivete in privato, invece stavolta sarebbe stato bello se qualcuno, dei tanti che mi hanno scritto, mi devo scusare, con i Matteo, i Bruno e Giuseppe, credo che c'era anche, comunque alcuni che all'inizio con serenità e con calma mi dicevano, guarda Michele che hai saltato il discorso dei gironi, cioè l'Inter non poteva capitare nei quattro gironi in cui poteva capitare dall'altra parte la Juventus, per una questione, poi l'ho scritto sotto nel commento, chiarendo, certo per chi rivede la trasmissione, diciamo, questi non dicono che l'Inter non può capitare, noi l'abbiamo fatta più larga la possibilità, l'ipotesi, anche il Bayern Monaco, in realtà una volta che la Juventus è uscita nel girone H, ecco lo dico per chi non l'ha letto e per chi magari ancora anche dopo continuiamo a chiedere nei messaggi, perché praticamente ci sono il martedì e il mercoledì per la Champions, quindi ci sono delle squadre che per appeal televisivo vanno in giorni diversi, quindi l'Inter e la Juventus, il Manchester United e il Liverpool, in ogni nazione, il Real Madrid e il Barcellona, una volta che la Juve come testa di serie è stata sorteggiata prima nel gruppo H, il quartetto EFGH di gironi va a un certo orario, avete visto quest'anno anche le 19, le 18.55 per una fascia di partite, e l'altro giorno, per non andare in, cioè uno che vede una sola partita al giorno, diciamo avrà l'Inter il martedì, la Juve il mercoledì al contrario, A, B o C, D sono i gironi possibili per l'Inter perché la Juve era già stata sorteggiata nell'H, quindi il famoso girone che noi dicevamo il Bayern Monaco, poi c'era stato Alessandro, mi sembra che diceva il Manchester City, no, quelli del Bayern Monaco e del Manchester City erano già impossibili una volta che è uscita la Juventus nel girone H, quindi da metà, più o meno, un po' prima della metà sorteggio in poi, e quindi diciamo che l'Inter a un certo punto aveva quella speranza, quello che era il nostro preferito, il gruppo D con l'allocomodo in Mosca a testa di serie, oppure quello medio del gruppo A dell'Atletico Madrid, o infine, visto che c'era poi tra l'altro anche il Napoli nel girone del Paris Saint-Germain, c'era il B, il B il più temuto e poi quello è stato, però abbiamo commentato in lungo e largo Barcellona, Tottenham, PSV Eindhoven, grande coefficiente di difficoltà, ma questa è anche la Champions, poi la quarta fascia, non è che ci possiamo lamentare di tutto, però mi è piaciuto oggi Murigno Scatenato che ha citato Hegel, che dice che il vero è l'intero, il vero è l'intero, cioè, adesso se per voi spalletti, amici miei, e quindi filosofoeggiando, figuriamoci adesso Murigno con Hegel, però per dire che mi dispiace per questo errore, per questa cosa di non aver detto subito, per vivere i sorteggi in un certo modo, però credo che aver seguito il nostro canale vi ha fatto vedere la difesa come si poteva schierare, vi aggiorna sempre puntualmente su tutto quello che è il discorso, anche della crescita che c'è stata, delle scelte che vengono fatte, credo che quindi può capitare, dai, come ha detto Murigno, adesso sto esagerando perché il paragone magari ad essere proporzionalmente Murigno sul web, in questo caso nella nostra web tv, però voglio dire avete sentito anche a Settegold parecchie volte gli interventi in questi giorni, quindi è un periodo un po' di lavoro anticipato è stato, ecco perché questo 13-14 agosto, 15 agosto e poi le prime tre giornate di campionato, così tutti ad agosto, per quanto mi riguarda non ero abituato, quindi adesso ci sarà questa breve pausa durante la sosta, ringrazio tutti quelli che hanno continuato a seguire il canale anche d'estate, avete visto anche i collegamenti con una connessione un po' particolare, ecco è stata un'estate molto particolare, adesso siccome sarà un anno molto lungo, è una stagione molto lunga, ricarichiamo, almeno ricarico per quanto mi riguarda e poi spero anche tutti quelli che stanno tornando dalle vacanze, anche i nostri ospiti, li saluto e abbraccio virtualmente tutti, così come abbraccio veramente virtualmente tutti quelli che si collegano nella chat YouTube, ma soprattutto quelli che gentilmente ci danno anche una mano, io ormai li chiamo collaboratori perché ci aiutano a segnalare le cose, così come è stato ieri nel sorteggio, mi sono sentito poi anche dopo la trasmissione con alcuni di loro su Messenger dicendo perché non avete scritto in privato stavolta, che era utile in privato, diciamo tu dici sempre di scrivere solo nella chat YouTube, vabbè. Bando alle ciance, Bologna-Inter, domani come promesso, ci sanzi domani sarà una connessione buona, visto che sono a Milano, quindi il post partita sarà con una buona connessione, adesso arriva il temporale e quindi no, salta anche quello, no. Dopo la partita, quindi ormai magari facciamo anche gli ultimi minuti, li seguiamo insieme e poi tutto lungo post partita con le vostre domande, le vostre considerazioni, commenti su Spalletti, sulle sue dichiarazioni post partite, speriamo davvero di poter commentare questa benedetta prima vittoria di campionato, dopo una sconfitta e un pareggio cosa manca? La vittoria. Quindi speriamo, speriamo per vivere anche più serenamente queste due settimane, di Nazionale, di Mancini, di Oriali, di convocazioni, chissà che D'Ambrosio, Gagliardini e Politano possano essere convocati in Nazionale, ma tanti altri partiranno, sono già stati convocati, non Gio Mario, che dovrebbe tra l'altro rimanere all'Inter, ormai mancano poche ore. Alla chiusura del mercato in uscita in quasi tutti i campionati, grazie a tutti, un caro saluto da Michele Borrelli, ci vediamo nel post partita di Bologna-Inter, scrivete la vostra per quanto riguarda i dubbi, i dubbi di formazione che stavolta sono davvero pochi. Ciao e sempre Forza Inter! Grazie a tutti!